Ciao ragazzi! Visto che è da poco che abbiamo creato il canale e ci teniamo veramente tanto e abbiamo raggiunto dei grandi risultati oggi caricheremo due video di Minecraft che è un po' il gioco da cui siamo partiti da cui stiamo partendo e ricordate di iscrivervi, lasciare un like soprattutto scriverci cosa possiamo migliorare e buona visione! Buongiorno a tutti ragazzi! Buongiorno a tutti ragazzi! Benvenuti in questo nuovo video e oggi faremo un bridge cioè la battaglia tra i faremo una specie di battaglia tra team dove praticamente siamo no ragazzi Sì, vi presentiamo che quando Ivan quando io avrò il nuovo computer io accompagno avrà un computer diverso perché è un portatile un po' schifoso suo quando avrà un computer diverso decente ad altri ad altri ad altri giochi come Fortnite eccetera poi è stupido che Fortnite non ci sia per Linux ui ma doveva morte contro no no ma ti ho detto io dai 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 no ma mi è passato attraverso ok questa non è una buona cosa però ci arrangiamo no ma non è morta no ma non è morta è vivo è vivo è vivo frate non più no ancora ma non muore mai questo cristiano no di ui oh oh no ma non sono morta guardate 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 che plebeo no è saltato dietro oh no sono caduto guardate guardate ma sparisce sto qui ma volare via come fa a volare via ca giro non spera troppo che nel video si sente che sembra tipo che stai morendo muori cosa vuoi devi morire no non è morto guardate ci sono tutte e due no 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 eh vabbè oh ma quanti siamo nati eh tanto ma anche tu poi come fa come fa eh mi ha andato indietro ma che troppo no guardate 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 dai vinciamo vinciamo diciamo no devi salvare lardo ma io c'è chi no beh sono un cagnolo ma perchè hai fatto tutto sto conto no perchè te no no ok siamo veramente forti parte parte subito aggressivo lui proprio lui proprio lui proprio lui proprio lui fermalo 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 è qua è qua è qua è qua è qua eh lo devi uccidere oh 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 no l'ho ucciso l'ho ucciso oh no però questo non è no e vabbè perchè ci ha messo così tanto eh perchè il pomolo è inciso subito eh perchè il pomolo è inciso subito poi non è caduto come mai ah no si è caduto no sono caduto io bene 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 parate a forza di cliccare a forza di cliccare a forza di cliccare control per exaltare mi fa male il pomolo zio zio qua c'è gente stupido babbo parate ma come sei venuto davanti mi fai passare mi sei venuto davanti ce l'ho davanti a te io ciammi passare oh ma se ci sono io cosa devi passare idiota ma non sei te ma era quello stupido rosso ma c'è tu mi dicevi mi fai passare a me ce l'ho io lì davanti si vabbè ma non mi faccio battattar comunque gli ho detto mi faccio vabbè oh perchè ti incazzi così come nooo perchè sono te sono teso non ne vince nulla oh cosa c'è qua piccola testina d'uomo oh cosa c'è qua ce n'è uno lì ce n'era uno e che cavolo sta facendo no vabbè ragazzi sta vincendo sta partita ancora un punto e la vinciamo che dite vabbè balliamo ok abbiamo vinto sta partita no lo faccio lo faccio dai vai no è saltato dietro oh no sono caduto rade ma sparisce sto qui ma non va via come fa No